Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi facciamo un video di Vlad e Nicky 2! Perché? Perché dopo non hanno fatto altri due, però... Gli è nata una sorellina! Non lo so, però gli è nata una sorellina. Ah, bonus giornaliero! Ma non c'è il manuale! Queste sono le mappe. Abbiamo... Sembra una discoteca... I meccanici... Poi c'è una festa in strada... C'è una parata... Poi c'è... Il mondo dei dolci... Il mondo dei dolci... Però che hanno le facce... Poi? Basta! Ah, finito! Quindi facciamo con l'inizio! Vediamo! Abbiamo questo che dobbiamo raccogliere, le volete il carroza al cielo... Bene! Poi... Skitboard? Lo skitboard... Il palavolo! Ok, allora adesso facciamo un attimo un mondo... Alla discoteca! Discoteca! Ciao ragazzi! Abbiamo deciso di organizzare una festa! Mi fa ridere la gormina con le cuffie! E per essere certi che sia un successo... C'è il furgone disco! Bene! Ma Vlad! Il cam è chiuso! Il cam è chiuso! Con 12 lucchetti! Con 12... Ma come faremo a divertirci ora? Quindi aiutiamoli... Non preoccuparti! A recuperare tutte le chiavi! Perciò ripeteremo tutti questi lucchetti! Ok! Ok! Allora come primo gioco ci indicano quello che dobbiamo fare! Allora devo trovare una chiave! Ok! Ma noi sappiamo come fare! Noi già sappiamo come fare! Quindi dobbiamo scovare tutti i pezzi! Bambina DJ! Bambina DJ! Fratello Nicky DJ! Dove c'è qualcosa? Eh! Ah! Dobbiamo mettere il cavo! Forse nella presa! Eh! Dove è la presa? Forse il cavo! Vedi in testa! Al centro della testa sopra! Ah! Giusto! Questo è un codice! Wow! Mattia! Sei stato bravissimo a capire! 3, 6, 4, 8! 3, 6, 4, 8! Qua? Sì! Qua! Qua! 3! 3! 3! 6! 6! 4! 4! 8! 4! Bravissimo! Questa è la molechia! Questa è una cassetta! Eh! E tu da dove sei uscito? Alza e prendi! Con lo stesso dito! Come si fa? Come si fa? Gira un attimo! Per questo ci siamo arresi e lo faremo dopo! Ecco la videocassetta! Videocassetta! Quindi andiamo alla radio! Di qua! Io voglio... la mette Mattia! Mattia prendi la videocassetta e mettila nella... Bravo! Chiudi! E accendi! Tasto rosso! Tutututututututututu! Chiave! Chiave! Poi proseguiamo! Qui forse dobbiamo mettere questi cerchietti che abbiamo trovato tutti colorati! Sopra! Sopra! Questi! Prova ad aggiungerli! E dove? Su questi due vasetti arancioni! Non va! Provane un altro! No! Non ci va! E qui abbiamo capito che devi fare un ballo! Su! No! Giù! 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 Su! A destra! Su! Giù! Wow! Giù è bellissimo! Bene! Ma io... 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 Chiudi! Chiudi! Niente! Forse serve qualche ingranaggio ancora! Ah! Questo! No! Prova a chiudere! Non va! È andato! Che cos'è? Una lavatrice? Ma che cos'è? Ah! Fa la schiuma! Fa la schiuma! E per il primo ho visto che c'era un lucchetto tipo come la schiuma! Ok! Forse tra... Sì! Tra la schiuma ci farò avere anche! Ah! Quello era il sapone che abbiamo messo! Cos'era? Il sapone! E quindi adesso fa la schiuma! È facilissimo da prendere! È facile! Dai, dai! Schiacciate! Bisognava unire più di una nuvoletta! Di schiuma! Ecco! Come questo! E poi una volta schiacciata ci ha dato la chiave! Però ora spieghi! Una! Una! Blu! Due! Arancione! E ci manca! Allora ci manca una forma di stella! Una gialla! Una rossa! E una bianca e azzurra! Bianca e azzurra ho capito! Dov'è? Eh! Bianca e azzurra è qua! Questi sono dei dischi che lui deve mettere per poter suonare! Ah! Adesso dovevamo creare una melodia! Bianca e azzurra centrale! Opsì! No, bianco bianco! Opsì! Azzurro! Un po' di rosso! Un po' di blu! Un po' di rosso! Un po' di blu! Un bianco e blu! 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 Bianco! Allora! Tasto blu in alto! Moldisco blu! Bianco laterale di qua! E' rosso! Muovi un po' il rosso! E... No! No! Per poco! Dovevo rifarlo! Quindi, fatto tutto il gioco dei dischi, ci ha dato la chiave! E andiamo a metterla! Poi ci manca quella rossa! Pronti ad assemblare gli ultimi pezzi! Ed ecco che ci dà... La chiave del fulmine! Wow! Andiamo! 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 E faccio quel cuoco! Vabbè! Però, va qua! Vai! Lo sapevo! Ci ha dato quella le... Ecco qua! Però è questo! Visto che è simile a questo! Non è che tu mi fai la stessa cosa! Ma non ci dà niente! Cliccandolo! Oh oh! Questo è molto facile! Forse ci siamo! Ed eccolo qui! Questo si muovono le luci e... Come le rosse! Dobbiamo cliccare... Forse dobbiamo mettere quella rossa! E ci dà la chiave che ci manca! Dove? Metti quella rossa in giù! Cioè una chiave rossa e una chiave gialla! Che ci manca! No! E girando... L'altro faretto... Abbiamo trovato la chiave rossa! E ci manca quella stella! E dov'è? E dobbiamo cercare l'ultimo! L'ultima! 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 Ci sono tante stelle! Ma non riusciamo a capire dove... Ed ecco qua! L'ultima ugualmente! E l'avevo anche messa! Va bene! Comunque ha acceso le fiamme! E poi... E' uscita la chiave! E' uscita la chiave! La posso mettere io? Sì! Metti! E' uscita la chiave! E' uscita la chiave! E' uscita la chiave! Ad aprire tutti questi lucchetti! In soli 9 minuti! E ve... Ragazzi per questo video è tutto! Dei nostri giochi pazzarelli! E' tutto! Iscrivetevi al canale! Lasciate un like! E se volete condividete i nostri video con i vostri... Amici!